Sono Leonardo Bonfiglio, sono amministratore delegato della Caffè Bonini, siamo qui appunto all'Expo con il nostro brand di riferimento di appunto Pausa Caffè che è il brand che usiamo per aprire i negozi in affiliazione in tutta Italia. Siamo a momento la catena che ha aperto più negozi in tutta Italia, con circa 145 negozi di cui 12 proprietà, alcuni sono The Corner e quindi sfruttiamo queste opportunità per farci conoscere soprattutto al sud dove in questa fase cerchiamo di aumentare la nostra presenza. Una fiera importante è quella di Expo Franchising, l'unica per il Meridione, perché è importante prendervi parte e che genere di affiliati ricercate? Beh, già detto lei, essendo veramente l'unica fiera di riferimento per il sud, è diventato per noi importante farci conoscere appunto attraverso la fiera di Napoli, anche per i siciliani, i calabresi. Il nostro affiliato di riferimento è colui che vuole aprire appunto oggi una delle attività più trend che si trova sul mercato, quella di aprire una boutique, perché noi cerchiamo più che outlet affiliati che vogliono investire insieme a noi sul brand Bonini, dove abbiamo la più vasta gamma di prodotti, in vero senza parola, perché abbiamo addirittura tutti i sistemi sia compatibili che originali a servizio della filiazza.